...delle corti e dell'ottogonalità della chiesa potessero essere l'elemento, il nuovo reticolo per la definizione degli spazi, quindi della nuova piazza di Ieremitanio e quindi con questi elementi che qui diventa, con questi setti profondi, che è un po' la mia ossessione che ho usato in tanti prosetti, diventa una quinta che se li vedi frontalmente sono aperti, se li vedi di nuovo camminando diventa una quinta chiusa e delimita una piazza che secondo me non è una piazza perché si distribuisce in tanti paesi. Lo stesso elemento diventa il nuovo ingresso del museo civico, dove a quel punto diventa l'ingresso dei tre sistemi, il Zuckerman che è al di là di via Garibaldi, quindi è fuori, non può essere compreso, ma comunque questo è un sistema organizzativo, il portale atletico, l'arena diventa l'ingresso degli Scrovegni, non è più quel giro assurdo che si deve fare attraverso le corti e dietro e abbiamo poi, riprendendo un'idea di Albini e poi a verso il grado, l'ufficio tecnico, vedo, il comune di Padova, quella di riproporre la formazione di una, chiamiamola, corte-chiostro nella parte verso via Cassan, perché nella parte via Cassan è tutta una parte mezzo abbandonata, c'era un'idea, un inizio di costruzione, credo, del progetto Albini e allora noi abbiamo prolungato l'ultimo fronte della corte, generando una corte aperta che si apre sugli orti, di quelle che erano le case gotiche, le vali di via Cassan che avevano gli orti dietro i lotti profondi della costruzione. L'associazione ci ha dato un'area che era limitata, diciamo, a corte della banca, il conservatorio, la tesoreria e l'ingresso da via degli eremitani dell'ufficio, quello che sono del conservatorio, che tra l'altro è un pezzo anche lì eclettico, perché è una ripartizione veneziana con il salone centrale, che per me è anche molto bello, perché collega la via eremitani a quella nuova piazza, con questo ambrone molto bello e poi l'abbiamo ripulito, perché c'è una facciata all'interno, che è una facciata veneziana per la ripartizione classica, che si riporta tra l'altro anche sul fronte, poi dopo c'è questo garage ormai chiuso, credo è abbastanza inagibile per questione ovviamente di viabilità e di chiusura al traffico, che pensavamo di ricostruire una quinta, potrebbe anche rimanere la stessa facciata che prende il fronte, con una finestra grata, dove dietro c'è il giardino. C'è questo articolo del 69, molto bello di punti, sul progetto di Sacripanti, il progetto non si farà mai, ma era anche un progetto di provocazione, di molti progetti di Sacripanti, dove il giovane Purini cominciava a esibire i suoi virtuosismi grafici, perché il progetto è formato anche da Franco Purini, dove Pupi, in quell'articolo certo, fa un pezzo molto bello e prende in considerazione anche la soluzione di prendere in parco il pezzo che dagli eremitani va fino alle mura sul torrente Piovego, che è un giardino più o meno classico, che è tipico di tutte le amministrazioni di quegli anni, dove la crisi politica generazionale del 69, tutto quello che è, perché qui che immagino ci sia stata un governo cittadino, la democrazia cristiana, ma solitamente potrebbe essere qualsiasi partito, l'unico modo per cedere a queste cose, che cos'è? Sono i verdi e quindi cosa facciamo? Tutto ciò che è spazio libero, anche la demolizione, lo facciamo in targiattina, ma l'Italia si costruisce attraverso piazze che sono rastricate e in tutto il mondo ce le imitano e noi dobbiamo sempre andare a costruire i giardini, così teniamo il Duonio, come ovviamente sono usati, quindi faremo un capitolo infinito, perché ovviamente i migranti ovviamente ok, ma come poi sono abitati quei giardini è fatale, è ovvio, ma questo ovviamente tutto parte con un discorso che è troppo lungo e non si sa neanche da che parte, per forza debba finire in quel modo, però c'è sempre questo concetto tale per cui c'è sempre la paura che non c'è abbastanza verde per la nostra città. Grazie. 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 Grazie.